Allora, buongiorno ragazzi, cominciamo quest'altra video-lezione e oggi ci dedichiamo a Giotto. Chi è Giotto? Giotto è un signore che è nato anche lui in Toscana, è del 300, è un signore che nel suo percorso figurativo ha cercato per tutto il tempo di fare cosa? Questo manuale scrive rappresentazione prospettica dello spazio, è una cosa che lui ha fatto in maniera spasmodica pur non riuscendovi, definizione dei volumi, le sue figure non sono più delle figure piatte, ma grazie all'uso del chiaroscuro e a una conoscenza della rappresentazione anatomica più corretta, ha reso i volumi in maniera molto più evidente, e una cosa, la rappresentazione vita quotidiana, io su questo ovviamente metto delle virgolette, perché la vita quotidiana si riferisce sempre ai suoi rappresentati che fanno parte prevalentemente comunque di narrazioni o bibliche o di vite dei santi, quindi non è la professoressa Carrieri la mattina quando si sveglia e fa colazione, non aspettatevi di vedere quello, non stiamo parlando di Hopper, Hopper è un artista del Novecento che rappresentava sì la vita quotidiana, non è Andy Warwick o della sua pop art, è un signore che comunque sta rappresentando la vita quotidiana di santi o della Madonna o di Gesù Cristo o degli apostoli, quindi non stiamo parlando di vita quotidiana alla gente comune, però li rappresenta nel pieno delle loro nozioni.